Porca paletta! Siamo in internet! Fa finta di niente, non dare nell'occhio! No nonnina, sto facendo i compiti! È la prima volta che doppio un film Disney, anche se in minima parte, per me è una cosa incredibile perché comunque Disney fa parte dell'infanzia di tutti noi, quindi è proprio stata un'esperienza wow! 30 ore di gioco senza pausa, ma finalmente abbiamo trovato la mitica auto di Shank! Sentirmi parte del progetto, in qualche modo, è veramente fantastico! Ehi, c'è nessuno qui? Ed ecco che siamo online! Dove stai andando? È pronto ragazzino! Se si potesse veramente entrare in internet, la prima cosa che farei è... Andrei subito a vedere chi è che si occupa di aumentare e diminuire la velocità della linea internet perché ci avrei due o tre paroline da dirgli, sinceramente! Ok, come dicevo, prendiamoci questo bolide! Ma se Ralph spaccasse il nostro internet, in realtà... Basta che non tocca il mio canale, poi può spaccare quello che vuole! SPACCA TUTTO! Tenetevi pronti perché Ralph spaccherà il cinema con Ralph spacca internet! Ci vediamo là! Ciao! 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 Ciao!